Giura di Dio e la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità, giuro, lo giuro, lo giuro, profilo destro, profilo sinistro, nome, Cristiano, Anthony, Tonio, cognome, rollo, nobile, fracasso, età, quasi 33 anni, 38, quasi 29, professione, impiegato, pastaio, impiegato, chi sono i scemi freddi? Un trio di amici che fanno cabaret, sono Anthony fracasso, Cristiano nobile e Tonio rollo, Anthony, Cristiano e Tonio, basta questo? definisci i tuoi compagni con due aggettivi ciascuno, Tonio è svitato, aspetta, che blocca la cosa, credulone, Anthony invece è pazzo, Anthony pazzo, bravo, è originale, Cristian, Cristian poliedrico, Tonio brillante, super comico, simpatico, definisci te stesso con un aggettivo? Creativo, esaurito, pessimista, parolaccia che dici più spesso, la posso dire veramente? Vaffanculo, cazzo va! Cosa non faresti mai sul palco? ridere, ma lo faccio, un brutto? No, ho fatto tutto, ho quasi tutto, mi manca veramente poco, delle amiche di tua moglie, con chi? No, si mette in difficoltà, non lo so, è una che lei non conosce abbastanza, nessuno, non lo faccio, bocca a due secondi, aspetta, non lo faccio, nome e cognome? Dai non ce n'è, solo con mia moglie, solo con mia moglie, chi è il più affascinante? Anthony, Cristian, Anthony, in dubbio Anthony, chi ha la donna più buona? Bah, diciamo Cristian, io, Cristian, chi è l'essenziale del gruppo? Io, tutti e tre, ancora Anthony perché è lui che scrive i testi e quindi è lui. Una cosa che hai fatto nella tua vita di cui ti vergogni da morire? Ho scopato troppo tardi, a 18 anni e quindi tutti quelli della mia età l'avevano già fatto e sono stato un po' tardivo, però va bene. Uscire 25 mila con l'ulto abbraccio? Non so, non mi viene in mente, forse non mi vergogno di nulla. Una cosa invece di cui vai fiero? Di quello che sono? La mia calligrafia? Beh, del mio carattere, di come sono, sì, della mia giovialità, del mio saper stare in compagnia e non so se è una dote, però ne vado tremendamente fiero, ecco, non cambierei il mio carattere con nessuno. Misura del senore frita? Terza. Non gliel'ho misurato a mia moglie, però dovrebbe essere molto vicino al 90. Diciamo una terza, comunque anche di meno voglio. Fai una fragorosa risata? Se gli scemi fedi diventassero un duo, chi elimineresti? Io, nessuno, Antonio. I nomi dei sette nani? Brontolo, Pisolo, Mammolo, Pisolo, Eolo, Luppolo, Eolo, Pisolo, Prontolo, Dotto, Dammelo, Giralò, Buttalo, 27. In tournè vi prenotano un albergo con una stanza matrimoniale e una singola. Come vi dissemereste? Io non da singolo, ma tireremo a tocco. Non so, Anthony, ma con Antonio sicuramente no, perché nel sonno è pericoloso, c'è disturbi e quindi sarebbe da evitare. Va, vabbè, io sul divano e loro due insieme. Domanda di storia. I nomi dei sette re di Roma? Come i nani, non lo so. Conosco l'ottavo, Totti, Romolo, Mammopilio, Tullio Stiglio, Anco Marzio, Altiglio il Superbo, Polauri, ci c'è accaduto di bui sui libri. Non ce la faccio. No, non li so. Domanda di matematica. Quanto fa 16.895 più 6? 16.800... Parecchio. No, 16.901. 16.891. Fantasia sessuale. Devo essere tranquillo, no? E fantasia sessuale è svegliarmi la mattina mentre qualcuno... Posso essere... Aspetta, scusa. Un terrazzo, pioggia. No, no, forse no. Fantasia sessuale. Svegliarmi la mattina mentre una donna... Sì, mi... Via, via. Non so come... Suggeritemi qualcosa, dai, la ripeto. 69. Cos'è che invidia loro due? Antonio... Nulla. A Cristian... L'appetito. La simpatia... Penso basta. Tutti e due insieme di... Di vedere sempre... Di vedere sempre la luce in tutto quello che fanno in realtà. Il luogo più insolito dove hai fatto sesso. In una casa in costruzione... Vicino alle poste di San Cesario. C'è la spiaggia. Macchina. Una visa. Domanda di geografia. La capitale della Cambogia. Allora, ad Anthony chiedetelo. No, questa cosa Anthony dovete chiederla. Non penne. Il tuo peggior difetto. Sono più di uno. Parlo troppo, do fastidio e... Rompo. Testardo. La petulanza. Il più dotato dei tre. Ma non abbiamo mai fatto una doccia insieme, però... Credo io. Ma sinceramente non li ho visti. Forse mi capiterà, ma poi vi dirò. Bella lotta. Forse io. Se proprio tua moglie dovesse la visti. Con chi? Tonio. Così va sul sicuro. Cazzi suoi. Ma non con un mio amico. Certamente. Poi, se mi tradisce via dai. Simula un orgasmo. Cazzo di domanda. Basta. Sogno nel cassetto. Diventare famoso. Quello di sfondare, già che ci siamo nel cabaret, dai. Diventare famoso. Cosa significa per te far ridere la gente? Trasmettere loro qualcosa di bello, di... Trasmettere a loro comunque qualcosa di bello. Poi lasciarli qualcosa dentro, qualcosa che li possa far capire... Ma è una bella soddisfazione. In realtà bisogna... Divertirmi io. A zero. A zero, a tono è curare. Sì. Vengono insieme a Oriente Piccolo. Beh, vai. Vado a continuare a gestare? No, lo stoppato. Vai. Vai. Perché hai fatto, no? Ti lo sai anche, no? Far ridere la gente per me significa trasmetterli qualcosa di importante. Lasciarli qualcosa di quel... No, mi stava messo anche artù solo io. Lo sketch più bello. Il cameriere. Sketch dei giocattoli. Forse è quello che deve ancora venire. Il più demenziale. L'incontro. Il più demenziale è l'albero di ciccio. Il barbiere. Prova di recitazione. Faccia sorpresa. Felice. Tormentata. Urno libero. Avete 10 secondi per dirvi quello che volete. A raffica. Vaffanculo, mi hai rotto il... No, vabbè. No, aspetta un attimo. Quello che vogliamo, parolacce, vaffan... Tra di voi, quello che vogliamo. Ma anche volgare... Vai libero. Libero. No, non mi è troppo volgare poi. Non mi andiamo a fare un culo. Mi trovo molto bene con voi e spero di arrivare dove possiamo arrivare. Siete due stronzi. E niente, va bene. Per Anthony sei avanti. Per Tonio sei sempre il numero 3. Tonio, devi finirla di ridere durante gli sketch. Cristian, i miei sketch una volta scritti vanno già bene. No, non mi li avresti troppo volgare. Non mi fai troppo. Dai, mettimi il bip quando mi diceva c'è troppo. Bip, bip, bip. Tutti i bip su tutta l'ora. No, non mi stai troppo volgare. Affanculo, ce la faccio tipo una caccia di tutti i due. Ci vavi, per dirvi quello che è qui, annazio, mi chiamiamo questo proprio. Salutatemi. Ciao. 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 Ciao.